ciao ragazzi bentornati in video assaggi la rubrica che viene onda tanto tanto da tanto tempo nel 2015 e vanno da ogni sabato alle 16 qui sul mio canale allora buon anno siamo entrati nel 2024 e per il 2024 ragazzi preparatevi a assaggi davvero spezza speciali speciali strani particolari ho già pubblicato sul mio profilo instagram piro 73 alcuni assaggi particolari che vedremo prossimamente e sono molto curioso che assaggiare insieme a voi ma per assaggiarli bisogna votare infatti ogni lunedì nel mio instagram appunto piro 83 faccio un sondaggio e voi dovete scegliere quale coppie di prodotti dovete votare quindi il più votato sarà quello che utilizzerò per farci su un video allora come prima puntata del 2024 avete votato questa settimana questi sono molto curioso di assaggiarli io inizierei con questi allora iniziamo con il cibo questi sono gli anti mikado gli anti poche cine giappone cinesi giapponesi si chiamano peoi e sono al gusto di frutto della passione io il frutto della passione lo adoro mi piace tanto e sono veramente curioso di assaggiare questi questi vi cadono al gusto della passione ce ne sono dentro due uno magari lo darò a mia mamma perché mi piace molto sennò non esco da aprire e facciamo la prova o è fatto ma solo si dicono che cosa sento nel mezzo a ridere sarò di gnocchi burro e salvia facciamo finta che non è così allora sì sono abbastanza grossi vedete sono grossi ripieni adesso andiamo ad assaggiarli come buoni mi piacciono si sente tantissimo il frutto della passione quindi un prodotto che mangerei ancora volentieri quindi chiamogli un voto a questi nikado peoi cinesi giapponesi orientali al gusto di frutto della passione o maracuja chi si voglia volto da 0 5 questa idea è un 5 perché mi piace e uno l'abbiamo fatto adesso ragazzi passiamo a questa una death liquid death una morte liquida al mango penso che sia una specie di bevanda frizzante al gusto ma non mi piace tantissimo questa questa lattina me l'ha regalata l'unico omar che l'ha comprata da un stato americano la adoro vedete è bellissimo e adesso andiamo ad assaggiare vediamo anche se è frizzante allora fatemi controllare per vedere se è frizzante sì perché sento carbonate carbonate è roba frizzante l'odore mango forte e non mi dispiace quindi andiamo ad assaggiare la morte liquida cin cin no come stavo leggendo adesso la dicitura qua sotto non so se riuscite a vedere se è scritto free sporting water è un'acqua aromatizzata al mango non è una bibita e acqua però il mango si sente appena c'è l'odore e mango ma il gusto del mango si sente veramente poco non mi fa impazzire sinceramente non mi fa impazzire comunque diamo di un voto anche a questa bibita volta 0 5 di questi darei un 2 perché credevo chi era una bibita al mango dove c'è semplicemente acqua aromatizzata al mango non mi ha fatto impazzire bene ragazzi anche per questa settimana video assaggi termina qua mi raccomando ogni lunedì votate il sondaggio che faccio nel mio profilo di instagram piro 63 e votate quale coppia di prodotti dovrò assaggiare con questo è tutto ragazzi vi ringrazio per l'attenzione video assaggi torna con voi tra sette giorni sempre alla stessa ora ma sul mio canale ciao 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 ciao